Arrivano 60.000 euro per la manutenzione delle aree verdi nelle frazioni di Aragno e di Bagno e per via Lussemburgo nel quartiere di Pettino. Il fondo è stato stanziato dalla Giunta Comunale dell'Aquila su proposta dell'assessore all'ambiente manuale Imprudente. L'obiettivo dell'intervento è quello di potenziare e migliorare il decoro urbano della città e delle frazioni. Le zone di Aragno, Bagno e via Lussemburgo versano infatti in uno stato di abbandono e pertanto necessitano di un intervento straordinario che le renda pienamente fruibili dalla popolazione. Nelle aree sarà operata la bonifica attraverso il ripristino delle recinzioni, le cordolature, le pavimentazioni, il riposizionamento dei nuovi arredi urbani e la sistemazione del verde. Un segnale di attenzione nei confronti dell'ambiente urbano, ha detto l'assessore manuale Imprudente, per le importanti ricadute sulla qualità della vita e della socialità nelle zone da bonificare.